Dunque la notizia l'abbiamo avuta subito tramite internet, abbiamo letto il nome della nave, poi chiaramente ci sono stati dei contatti con la compagnia e poi abbiamo cominciato a guardare la televisione da ieri, in pratica senza mai smettere, abbiamo avuto poi comunicazioni con la capitaneria di Porto che ci hanno garantito che stanno bene, non ci sono stati, insomma quantomeno lui non è ferito, è a bordo, coordina le operazioni e aspettiamo chiaramente che finalmente arrivi questa telefonata per sentirlo di persona.